Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso ci sono rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla FIPILI per lavori tra Firenze e Firenze Scandici in direzione Mare restringimento di carreggiata. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in prunita. Sulla regionale 69 Valdarno senso unico alternato per lavori al chilometro 1,700 nel comune di Pelago. La viabilità cittadina a Firenze in viale Guidoni fino al 21 giugno circolazione interrotta nel controviale tra via da Schio a via dell'Ormatello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!